e buongiorno buongiorno a tutti ragazzi bis agar buongiorno ciao 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 benvenuti all'ultima live battutina dal vero dedicata a fortnight c'è un regalo c'è una roba che non cosa che come va come va ragazzi come va e oggi purtroppo sembra che non ci sia la pace io sono aggiornato a tutti albi pazzo criminale è quel pazzo di albi che sta dormendo buongiorno gatto e bro che cavolo è che cavolo è gas bro mi mancava il biafico ragazzi oddio si è bagato ma perché si deve baggare ogni volta un momento voglio uscire da fortnight sono obbligato cazzo la porca bastarda per quelli che non possono vedere la live domani chiediamo alla prof prof c'è la pace 10.30 porca maiala per favore faccia la seria mi manca solamente il ciao secondo me la patch se esce alle se esce di solito buttano giù i server alle 9.30 no non avevo il biascico andiamo buongiorno buongiorno a tutti ragazzi oggi spacchiamo tutto il piccone non fa parte del set ma non lo si prende con il bundle bundle che dovrebbe costare secondo me 19.90 20 euro secondo me perché l'altro costa 30 come si dice quello non so se c'è il dark fire bundle invece da non confondere con il dark bundle perché è un'altra cosa a tutti e c'è la versione come si dice legge sono ovviamente mi sembra che siano rarità leggendaria penso che sono tutti i dettagli di rarità leggendaria raga bellissimo anche il come si dice lo scudo come backpac c'è anche il cubo come backpac il johnsy malvagio come backpac come backpac albipazzo criminale come backpac che però non è incatenato eeeh nooo li entro li entro li entro li entro li entro i'm coming i'm coming i'm coming was 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 alla farcadale su 84 l'hai sentito eh buco di culo mamma mia che 97 gli è entrato mamma mia che 97 gli è entrato mamma mia che 97 gli è entrato mamma mia minchia lol che male quel 97 raga che male ciucca grazie michele pio grazie mille grazie mille grazie michele grazie michele oh c'è uno degli shieldini li tiro lo shieldone e me ne vado in safe milanese ue te sei de milan ciao xxu vi potete si possono utilizzare un mio amico di nome? certo allora ragazzi peppo j 90 peppo j 90 magari fa dei bei contenuti andiamo a dargli un'occhiata dai raga was 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 uuuuucca ma fischia non capisco dov'è il quarto quello che mi preoccupa il fatto che non ho idea dove sia il quarto ma fa nooo 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 no ragazzi io voglio ringraziarvi voglio ringraziarvi tutti per tutto per tante cose per avermi supportato al bipazzo criminale c'uca mi mando un abbraccio iscrivetevi al canale noi ci vediamo stanotte Ciao!